Taiwan volta pagina. Il voto coraggioso che ha incoronato la leader indipendentista Tsai Ing-wen è accompagnato da un sentimento di speranza misto a preoccupazione. Tra le questioni che sanno più a cuore ai 23 milioni di abitanti dell'isola c'è l'uscita dalla difficile situazione economica. Non vediamo l'ora che siano messe in campo delle riforme. Non credo che ci sia una differenza tra un presidente uomo o donna. La cosa più importante è che il nuovo leader si prenda cura del suo popolo e porti prosperità. Nei prossimi quattro anni le questioni aperte tra Taiwan e la Cina non saranno certo risolte e temo che in questo periodo l'economia continuerà a peggiorare. Non vedo alcun possibile passo in avanti sul fronte diplomatico. Questa è una cosa che ci preoccupa. Chiudere la porta alla Cina potrebbe avere delle ripercussioni pesanti sulle finanze di Taiwan. Lo scambio commerciale tra i due paesi è raddoppiato negli ultimi cinque anni toccando anche punte di 197 miliardi di dollari l'anno.